ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi faremo un video con le macchinine e con questa trottola con questa bellissima e stranissima trottola non so perché stranissima e allora dobbiamo fermarla cinque volte per vincere e mangiare una tic tac che sono molto bene usando alle macchinine intanto presentiamo le squadre allora questa è quella di stelle con la blu la viola, la verde e la blu un po' strana questa è la azzurra poi c'è la mia rossa, rossa, arancione, arancione e rosso confuso allora tocca a me a me attenti questo ok punto di babbo, punto di strellic allora tocca la partita l'ho chiappata generalmente io allora per me questo è il golden goal come il goal provo ah no tocca a te strike 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 tocca a me adesso proviamo a chiapparla con questa macchinina a ah la pesecchile ragazze anche se non vedete niente guarda adesso in quadro la dove sei mista in macchinina allora qua c'è la macchinina e qua c'è la totta è fermata con un solo colpo con questa misera macchinina e il mio premio è una bellissima tic tac da mangiare anche se sono le 7 passate ciao ciao